bentornati a tutti i miei radioascoltatori a nuova puntata con il gastronomo con il baffo beh oggi parleremo un po di broccoli stiamo parlando un po in queste settimane perché perché a me piace tanto il broccolo verde perché non fare un pesto con il broccolo verde così da saltare velocemente una pasta così velocemente un gusto particolare torneremo alla nostra pasta che ne vale davvero la pena perché non provare allora allora prendiamo i nostri broccoli verdi prima li sbianchiamo perché è importantissimo la sbianchitura però in questo caso li facciamo cuocere fino a cottura terminata quindi li bolliamo in acqua per circa 15 minuti mi raccomando sempre a ciuffetti poco sale non mettete molto sale perché però potete aggiustare quando andate a creare il pesto dopodiché prendiamo un bicchiere per immersione mettiamo all'interno i nostri broccoletti ben scolati e prima mi raccomando raffreddati in acqua e ghiaccio così da compattare il colore così rimane tutto il colore verde bello della clorofilla e tutti e così è più bello il nostro pesto diventa più bello quindi mettiamo all'interno i nostri broccoli mettiamo 40 grammi per circa un broccolo 40 grammi di pinoli 50 60 grammi di parmigiano grattugiato dopodiché mettiamo circa 15 cl di olio prima ne mettiamo 7 poi gli altri 8 e via frulli prima con i liquidi via mettiamo tutti gli ingredienti frulliamo con 7 celle di di olio di oliva mi raccomando di quello buono perché l'olio deve essere sempre quello buono frulliamo il tutto e poi aggiungiamo l'altro olio se in caso possiamo pure aggiungere un po di acqua di cottura per la densità questo potete regolare voi ed ecco pronto il nostro pesto per saltare una buona pasta non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata col gastronomo con il baffo ciao a tutti